Resta gravissima la situazione riguardante l'effettuazione del servizio di raccolta dei fiuti solidi urbani nella città di Berindisi. A partire dal 1 ottobre, come è noto, tale servizio viene effettuato dalla ditta Teorema, che è subentrata ecotecnica a seguito della gara d'appalto bandita dal Comune. La realtà è che tale azienda non ha dei locali idoni e destinati al personale e ai mezzi, tanto è vero che è dovuta intervenire l'amministrazione comunale per fornire un proprio capannone, peraltro davvero poco adatto allo scopo. Decisione peraltro fortemente contestata, visto che in questo modo si è creato un indubbio vantaggio per Teorema rispetto alle altre ditte che avevano partecipato alla gara. A questo si aggiunge il fatto che i mezzi a disposizione sono ancora pochi e quindi i cumuli di spazzatura restano per strada per ore e ore in quanto si rende necessario dar vita a un doppio turno. E poi la Teorema non dispone ancora di un centro di raccolta e quindi chiunque in precedenza utilizzava tale struttura, adesso inevitabilmente è costretto a lasciare per strada i cumuli di rifiuti con effetti devastanti per il decoro urbano. L'Ulcis in fondo, un esposto alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti, all'Ordine degli Avvocati e al Comune di Brindisi che l'Avvocato Massimo Ciullo, come legale della Società Ecotecnica, ha presentato in riferimento alla posizione dell'Avvocato Mario Marino Guadaluppi, ipotizzando elementi di incompatibilità e di illegittimità. Il tutto a seguito dell'applicazione di penali che l'Avvocato Guadaluppi nella sua veste di dirigente del settore ambiente del Comune ha fatto nei confronti di Ecotecnica, provvedimenti che la stessa società afferma di aver impugnato nelle competenti sedi giudiziarie. Secondo l'Avvocato Ciullo, la posizione di Guadaluppi in quanto iscritto all'albo degli Avvocati e dirigente del settore ambiente del Comune non è consentita dalle leggi vigenti ai sensi della legge 247 del 2012 e non sarebbe conforme alle leggi vigenti anche la posizione di dirigente contestualmente sia del settore ambiente che di quello degli affari legali. Considerazioni, quelle fatte dal legale di Ecotecnica, che trovano supporto nei pronunciamenti della Cassazione a sezioni riunite. Nell'esposto poi viene sottolineato che, come ribadito dal Consiglio nazionale forense, un Avvocato pubblico deve preoccuparsi della trattazione degli affari legali dell'ente con esclusione di ogni altra attività amministrativa. Da qui la richiesta che l'Avvocato Ciullo rivolge all'Amministrazione Comunale di Brindisi e all'Ordine degli Avvocati con un invito a intervenire, tanto più perché la denunciata posizione di incompatibilità dell'Avvocato Guadaluppi avrebbe dei riverberi sugli atti dello stesso prodotto e a partire proprio dall'applicazione di penali nei confronti di Ecotecnica.